L'associazione Cross Media, a conclusione del progetto triennale di educazione alla legalità, oltre Gomorra, tocca a noi costruire il futuro, ha organizzato un evento nell'istituto comprensivo Sesto Quasimodo di Pozzuoli, nell'auditorium di Costanzo, nel plesso Massimo Troisi. Protagonista dell'happening, il rapper Antica Morra, Luca Riello, che ha condotto i ragazzi in un percorso di riflessione sul rapporto tra legalità ed illegalità, partendo dalla sua produzione musicale. E' esposti anche i lavori prodotti dagli studenti nei percorsi laboratoriali svoltisi durante l'anno scolastico. Soddisfazione nelle parole della dirigente scolastica Rosa Carannante. E' una scuola situata in un quartiere a rischio, dove c'è molta debianza minorile. La scuola, dagli elementari e anche dalla materna, si è sempre preoccupata di attingere ai fondi europei per il problema della dispersione, ma anche si è sempre affidata ad associazioni come quella che lavora adesso nel progetto Oltre Gomorra per interessare gli allievi ad attività che li coinvolgano positivamente perché bisogna prevenire la dispersione, a cominciare dalla scuola materna e elementare, bisogna coinvolgere i genitori e se i ragazzi sono impegnati nel fare scuola dal mattino al pomeriggio nelle varie attività che la scuola può organizzare, allora certamente questo è il miglior tipo di recupero che si possa fare. Grazie.